Stando al Wrestling Observer, Liv Morgan e Bo Dallas avrebbero stretto una partnership molto importante lontano dai ring della WWE, tanto da aver acquistato una fattoria che amministrano insieme. Non solo, i due sarebbero entrati anche nel campo del mercato immobiliare, che potrebbe essere un valido paracadute lavorativo per il domani che li attende una volta conclusa la carriera nel ring. Il settore delle costruzioni, degli affitti e delle vendite di case e di uffici è uno nel quale ricadono spesso i wrestler, con un passato pieno zeppo di situazioni similari, da Jerry Jarrett, promoter e padre di Jeff Jarrett, sino a The Undertaker, che ha investito anche egli parte dei suoi risparmi proprio in questo ambito. Mentre la Morgan ad oggi è ancora discretamente attiva negli show televisivi della WWE, per Bo Dallas invece l'ultima apparizione TV risale alla fine del 2019 e di lui si sa ben poco. Di tanto in tanto sono girati dei rumors connessi ad un suo possibile coinvolgimento negli archi narrativi del maligno, visto che Bray Wyatt è suo fratello maggiore, ma poi non se n'è fatto più nulla. Beh insomma, stando a questa notizia, beh almeno Bo Dallas nel tempo libero qualcosa per il suo domani lo sta facendo.